Allora 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 Par节hab Sessanta brevi e quarta nuove devono fermarsi, grazie, per perdere la fuma si è avuto fermato in quarta nuove. Sessanta brevi e quarta nuove. Quattro, due, nove, cinque, nove, cinque, eliminati al sito precedente. Quindi Fasone e Perinelli. Fasone e Perinelli non fermarsi. 31,668, Fiale e Mazzarini fermarsi. La pensione si è stata una caduta, una donata di scartelino. Innazione singola, qua. Devo una parte che ha avuto. Tre, sette, sette, divini. La prima è la ritorna. La prima è la ritorna. La prima è la ritorna. La prima è la ritorna con il treno della Mazzana in testa gruppo. A vanizione per il numro sessantanove Marques. L'ultima con la congruazione. 5,9,7 e 68, quindi Viernicchia e Viernicchia, 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 V 605, Marisola, avvento! Iniziamo per la 35! Vai Pippo! Perché se va lì poi non c'è il sessore. Guarda di me, manietta, fermarsi! Vai Pippo, forza! Il testa gruppo con gli attratti della Mersana, è bravante! Guarda Pippo! Dai Pippo! Campana di meno 34! Dai, dai, tanti! Oh, ma entra e non ti staccare! Visto che è mia posizione! 12, fermarsi, figoletti! Fermarsi! Campana di meno 34! Inizia al gruppo! Sì! No, ma entra e non ti staccare! Sì! 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 Campana numero 13 con Settini ancora, fate fare la natura, voi, gli attretti della messana, la polisportiva per l'unico, vanno a schierarsi, vanno ai blocchi, 6-9, Marchese, fermarsi, ora è, con un amante che si è riportato in testa, 2-7-6, un amante, a un amico. 9-5-6, per chi riconfermarsi? Sì, serio, il tuo è schiantato. Questa sera, quanta venti? A questo è un punto, questo è squalificato per questo scelto. 1-40-10, i miei mettoni, a un amico. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. 6.26, fermarsi, ferretti, a passaggio campanile, ultimi, 2.000 metri, 4.000 metri, 4.000, 4.000, ancora, è lunga, 6.54, Mallorca a finarsi, in testa gli atleti di Belusco, Campana di meno 18, ora si è in testa, poi Belusco, 14.27,eluopsi, campana di meno 18, per 2.06, già rid助so l'imp transitario, Damiano Semici, in testa, Guadaletta di Giasa di Napoli Spoglione Manusco, 277, pronto, fermarsi. Campana numero 14, Penusco, in testa, 3, 6, 5, fermarsi, varela. Campana numero 12, Penusco, in testa, 4, 5, fermarsi, varela. Campana numero 14, Penusco, in testa, 4, 5, fermarsi. 605, Marisonna, tre passi, sono rimasti in otto, Campana, Guadarella, in testa al lupo, ora il premio della Polizia Dio, Manusco, 297, Anzolotti, Romanzi, Grazie a tutti. Tre e quattro, Padrella, Campana, ora sempre in emersione. Centro e cinquantane, Casadevi, Fumasi, Pantellina Sede, 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 Pantellina Sede Grazie.